Oggi domenica, 30 aprile 2017, ci troviamo sul manto erboso di via Olimpia di Castelfrentano per la gara a Casalinca, la 23esima giornata del campionato provinciale giovanissimi, girone Chieti, la gara è Virtus Castelfrentano, Valle Aventino, ecco il riscaldamento dei nostri calciatori agli ordini di mister Gabriele, in fondo vediamo il portiere Matteo, lo sta allenando Enrico, questa è la quatt'ultima gara di questo campionato, movimento via, stiamo sciolti via, sempre sciolti, vetti via.